Allora condividi, stavo guardando, stavo dando un'occhiata ai numeri, allora si vede? Sì Questa è una piattaforma di analisi fondamentale, allora l'EPS effettivo sarebbe l'utile per realizzazione 1.06, sottesa positiva 18.05, più 18.05%, i dividendi hanno un payout il 14.41 e vediamo la capitalizzazione, sì effettivamente 50 bilion, allora asset attuali… Io ieri ho fatto banalmente notare che probabilmente lo Stato incasserà dividendi perché giustamente lo Stato è sempre affamato i dividendi che magari compenseranno il taglio degli accise, dell'IVA, no? E ti guarda, la stima dell'EPS 0.75 contro un EPS effettivo di 1.06, quindi effettivamente questa è la stima, il 23 febbraio ci sarà la data dell'annuncio, la stima di fatturato 28.637, previsione… eh sì effettivamente andiamo al di là di quella che sono i numeri tradizionali, vedi questo è lo storico dei ricavi e degli utili, eh sì effettivamente sono dei numeri che secondo me leggono una… come dire, un aspetto transitorio, cioè un esercizio che va un po' al di là di quella che è la fisiologia, però chiaramente con numeri del genere devi essere necessariamente generoso con gli azionisti perché è come che metti tutta riserva e non sarebbe ragionevole. Detto ciò, i prezzi di bozza stanno iniziando a riconoscere questo… passo invece all'analisi tecnica, stanno iniziando a riconoscere questo… questi numeri top perché settimana scorsa Eni ha chiuso a più 7, è stato il secondo miglior titolo dopo Iveco e questo insomma è abbastanza emblematico, Eni come sappiamo è un titolo che si muove abbastanza lentamente proprio in virtù della grande capitalizzazione e abbiamo superato questo livello grafico che era importante, che si opponeva da mesi alla salita dei prezzi con questa candela lunga accompagnata come vedi anche dai volumi, quindi sostanzialmente c'è attesa per il 23 per… Certo, io dico che come dice Simone Pantaleoni, allora vorrei far vedere una cosa Pietro perché poi se no si rischia di cadere in una trappola cognitiva… scusa condivido un attimo lo schermo… Vai! Allora io voglio far vedere due cose, la prima è che diciamo questo prezzo attuale che è in breakout, diciamo su una resistenza forte e che apre anche magari a scenari interessanti, ma in realtà non è che chi sta comprando Eni oggi queste cose non le sappia, le sa esattamente come le sappiamo noi, quindi non è che detto questo allora il prezzo di Eni deve raddoppiare, assolutamente no, cioè questa cosa sta già nei prezzi ed è assolutamente tutto vero, l'unica cosa che non sta ancora nei prezzi è diciamo l'utile dell'ultimo, del quarto trimestre del 2022 che quindi ragionerà su quello che è l'utile anno. La cosa interessante secondo me è sempre da sito Eni è la motivazione, diciamo è cosa discuteranno loro nel CDA del 22 che poi si trasformerà nel comunicato stampa e tutto quanto del 23, ok? Nel CDA del 22 febbraio 2022 discuteranno di bilancio pre-consultivo al 31 dicembre e delibereranno la distribuzione delle riserve a titolo in luogo del dividendo 2022, ok? Quindi effettivamente poi bisogna vedere cosa decideranno, ma c'è sul tavolo l'idea di una distribuzione di riserve, quindi questo è un dato di fatto, non è che ce lo inventiamo noi o ce lo aspettiamo, questo assolutamente è. E allora io non so che cosa uscirà da qui, però senza dubbio è una situazione interessante. Ci tenevo a fare queste due specifiche, no? Perché nel frattempo lo si vede qui, no? Tutta quella speculazione sul gas, tipicamente adesso si potrà fare un po' meno, visti i prezzi correnti che sono comunque ancora ben più alti di quelli che c'erano prima. Torno da te e ti prego di no di condividere, Pietro, se vuoi chiudere. Certo, sì, no? Stavo nel frattempo che stavo dando pure un'occhiata ai competitor per capire come si stanno muovendo i competitor. Vedi, questo ti mette in relazione per capire se questa, diciamo, se questo passaggio è di utili fuori della norma e solo di Eni oppure di tutti, no? Sembra che tutti stanno più o meno crescendo a tutto il settore e vediamo il ferveglio, il ferveglio 21 e 34. Quindi tendenzialmente questo lo ricava dall'analisi di 12 modelli che sono questi qua e sono visto annoiare per il ferveglio 21 e 34, quindi abbastanza, diciamo, lontano ai prezzi attuali. Poi il ferveglio vale quello che vale, evidentemente, va analizzato in maniera più precisa. Detto ciò, il tema è questo, secondo me Davide Apparteni, c'è stato sul mercato italiano un reprising generale. A partire dal primo giorno del 23, Piazza Affari ha mostrato una brillantezza che io non ricordo da anni, perché è stata riscoperta, cioè titoli che erano stati penalizzati talvolta impropriamente, penso, è di veco, no? Che se ci pensi è una storia che ha iniziato male, a differenza delle altre operazioni straordinarie della, di Elkan Agnelli, se ti ricordi, spin-off CNA che andavano tutti bene, invece il veco è andata male. Adesso Prontivi ha fatto più 70% nelle prime 32 sedute dell'anno. Quindi è come se i modelli fossero stati ritarati sull'Italia e ti dirò e ti anticipo anche l'argomento successivo sulle PNC, che anche le posizioni delle PNC sono magicamente, sostanzialmente sparite e tornate sui minimi, addirittura fra i Draghi, cioè il mercato dei shortisti è meno aggressivi rispetto a quando arrivò Draghi. Quindi l'impressione che ho è che ci sia stato proprio un modo diverso di rivalutare sia l'azionario in virtù dei nuovi scenari, ovvero con le banche centrali meno aggressive e una recessione mia, soprattutto in America, meno combate rispetto a quello che si immaginava. E poi i fund manager sono andati a ricercare quei temi, come dire, sottovalutati che non erano stati presi in considerazione e li hanno comprati a man bassa. Chiudo dicendo che la cosa bella del rialzo di Piazza Affari è stata che è stato rialzo corale, cioè c'è stata una staffetta nei primi giorni del 23, cioè non è salito solo il bancario, è rimasto il box l'energetico, si sono dati la staffetta, cioè è salito un po' i bancari, poi i bancari consolidavano e spingevano gli energetici, poi chiudevano gli energetici un po' di long e attaccavano le utilities. E quindi questo ha portato a questo rialzo di più 16 che, ribadisco la mia posizione, mi ha assolutamente sorpreso, non avrei mai detto, ma tant'è. Detto ciò, quando io proprio per indole, quando vedo eccessiva euforia e quella sorta di fomo, quella voglia di salire a tutti i corsi sul treno, inizio a alzare le antenne, per mia proprio, come dire, indole. Normalmente. Sì, quando vedo degli eccessi sono sempre abbastanza sorpreso, avevo provato lo short due settimane fa, sono stato stoppato, avevo provato fra l'altro anche degli short su Unicredit che anche chiaramente mi ha asfaltato e quant'altro, quindi il segreto è poi essere pronti a cambiare idea e lo stop loss è proprio lì, quello strumento che ci consente di limitare le perdite così. Detto ciò, la mia strategia è una strategia che i long li chiude in giornata, perché non ce la faccio a fare troppo multiday con long e lo short per ora non lo apro, ma aspetto un segnale per farlo, cioè lo short multiday. Quindi sono posizionato più evidentemente verso il long, ma non vado multiday con il long perché con i prezzi così tirati faccio una certa fatica. Detto ciò, tutti i ragionamenti che facciamo verranno probabilmente sparigliati alle 14.30 perché sappiamo quanto sia importante il dato di inflazione e quanto può cambiare le metriche del mercato. Ricordo che l'ultimo dato americano sorprendente, quello sul lavoro, aveva proprio sparigliato le carte, aveva portato proprio una nuova ondata di acquirenti. Quindi questi dati sono veramente importanti e io in generale sconsiglio di prendere posizione a poche ore da un evento così pre-sensitive perché sarebbe sostanzialmente fare una scommessa a qualcosa di eseguo. Quindi poi magari fa il fenomeno, l'avevo detto che il dato usciva, però c'è poco da fare i fenomeni perché là o hai la sfera di cristallo o vai alla cieca. Fare una previsione su un dato macroeconomico è quanto di più sbagliato secondo me si possa fare. È come fare la bolletta del calcio, non ha nessun fondamento statistico. Quindi in generale c'è un reprising del mercato italiano, lo registriamo, lo accogliamo con favore, anche con una certa orgoglia. Una volta tanto facciamo una bella figura sui mercati. Detto ciò, quando vedo troppi che si interessano ai mercati azionari, anche il panettiere richiede info su intesa unicredit, quello è un po' il mio indicatore di sentiment che la storia inizia a farsi un po' troppo, come dire, mainstream e quindi probabilmente il professionista inizia a tirare in arrivi in barca. Senti, allora ti chiedo questa cosa, cioè se prima l'hai accennato andiamo un po' a vedere questa situazione delle posizioni short, se vuoi ricondividere lo schermo. Volentierissimo, guarda, sorprendente, sorprendente, diciamo due temi vorrei affrontare con te oggi. Il primo è quanto lo short si stia accorciando e riducendo. La cosa emblematica proprio in termini quantitativi è sia il numero di azioni oggetto di short che sono solo 20, è un numero bassissimo, ossia il numero di investitori che ha PNC superiore a 0,5 che sono solo 20 e questo è anche un numero molto basso e infine il nostro indicatore di sentiment, il net short index che ha 24,78 che sostanzialmente accorciando un po' il periodo sostanzialmente sui minimi diciamo decennali, vedi che aveva toccato questi livelli, 26 solo nell'ottobre del 21 poi c'è stata la risalita. Questo non lo guardate, è un'operazione straordinaria che non ha senso, però chiaramente viene registrata, ma insomma in ogni caso siamo sui minimi assoluti, quindi il mercato italiano rispettato, il mercato italiano che non è shortato e le mani forti che non si azzardano per ora a fare escursioni. Se non, e qui c'è anche un altro tema interessante, prendono anche delle cantonate perché ti faccio vedere cosa è successo su Ideco che come sai dopo i risultati ha avuto questa performance direi fuori dal comune e effettivamente non sempre sono alla parte giusta perché vedi Citadel proprio prima dei risultati il 6 febbraio aveva aperto uno short a 0,56 poi è aumentato, poi è ancora aumentato e adesso lo sta piano piano chiudendo. Adesso non abbiamo certezza che sia uno short naked, quindi un abbattezzato alla direzione short, potrebbe anche essere una copertura evidentemente, però insomma talvolta è anche bene evidenziare come anche le mani forti prendono probabilmente delle cantonate. Ripeto, non c'è certezza che sia una cantonata assoluta, però certo comunque anche se è una copertura hai coperto qualcosa sbagliando perché poi il titolo ti è andato in faccia. Allora come si fa a evitare anche lui di prendere cantonata andando dietro istituzionale? Io tendenzialmente tendo a riconoscere uno short rilevante quando è condiviso, nel senso che quando solo un holder, un solo hedge fund va short su un titolo, la cosa non mi fa alzare particolarmente l'antenna, ma se vedo che improvvisamente due o tre hedge fund iniziano a scommettere forte sul ribasso di un titolo, lì effettivamente se tante persone insieme da latitudini e longitudini diverse prendono la stessa posizione, qualche domanda me la faccio. Quindi come diciamo tattica per utilizzare il big short hunter, tiriamo su le antenne quando il movimento short è condiviso, quando lo short cover è condiviso, quando è estemporaneo di un solo holder tendenzialmente uno rimane un po' diffidente. Però insomma in conclusione se dovessi trovare un titolo, anche i ricchi piangono, potrebbe essere il titolo per Citadel che ha preso una bella cantonata. Bene, grazie Pietro. Allora io torno a condividere e a mettere il faccione, torno anche a chiedere a Eugenio di venire in video e mi viene da dire, anche prendendo spunto da quello che ha scritto qualcuno nella chat, provate ad immaginare se in paesi più propensi di noi anche a vedere la gente andare in piazza a protestare, ci fosse stata un'azienda di pseudostato che faceva tutto questo utile a fronte di quegli aumenti nelle bollette, che cosa poteva succedere diciamo in certe regioni del Regno Unito o a Parigi, insomma dove c'è come dire una dinamica più chiara, è un modo di reagire più chiaro a questo tipo di situazioni. Vabbè, insomma, questo rimane e vedremo che cosa succederà a Eni, ne riparleremo dopo i dati di bilancio. Allora, ciao Pietro, grazie per essere stato qui. Vi saluto, se posso Davide uno spoiler su quella bella idea che ti è venuta il 31 marzo. Posso? Prego, prego. Vado, anticipiamo. Davide ha avuto una bella idea, fare i tempi supplementari di market briefing, quindi per chi non fosse sazio della trasmissione abbiamo pensato il 31 marzo Investing Napoli di fare i supplementari, quindi un pomeriggio dedicato alle persone che verranno a Investing Napoli, diciamo ai fans di market briefing per approfondire ulteriormente in maniera esclusiva alcuni temi e Davide e tutta la sua squadra di market briefing sarà a Napoli il pomeriggio alle 15 del 31 per fare i supplementari, quindi per chi non ne avesse abbastanza dell'appuntamento mentre alla mattina possiamo spoilerare che ci sarà anche un altro appuntamento dedicato solo alle persone che saranno a Investing Napoli e quindi è una bella cosa, ringrazio Davide per questa bella idea e sarà anche un modo per rivederci tutti insieme a Investing Napoli. Assolutamente sì, grazie mille Pietro. Grazie a te, buona giornata.